Sono Fulvio Bressan, sono un produttore di vino, di vino vino, non solo di vino, vino con il vecchio concetto di vino vino, c'è ancora il maledetto vizio di fare vino con l'uva, so che è brutto, però è il mio vizio. Sono in Friuli, l'azienda è a Farra di Sonzo, piccolo comune a 10 km da Gorizia, l'azienda è composta da 20 ettari di vigneto, tutti di proprietà, non è che mi piace dirlo di proprietà, perché io riesco a fare vino solo con le uve che mi faccio da solo, perché non mi fido di nessuno tranne di me stesso, perciò voglio i vigneti miei, potati da me, con le mie bambine, che sono le viti che le conosco personalmente e che non mi tradiscono mai, perché non sono delle zoccole. E se c'è qualcosa che non va nelle mie viti è sicuramente causa mia, perché come diceva il mio vecchio professore francese, diceva che le viti parlano, siamo noi che non siamo in grado di ascoltarle o che non ci prestiamo attenzione, loro parlano. L'idea nasce che se 2000 anni fa si faceva vino non vedo perché non si possa fare anche oggi usando i vecchi sistemi, sicuramente uso il vecchio verde rame, ancora in scaglia, che faccio ancora sciogliere, non voglio quello idrosolubile, uso lo zolfo, quello di miniera e non quello frutto di prodotti di sintesi o di pulizie di altiforni o quant'altro. si producono, vado su una produzione di 35 quintali mediamente, 35 quintali duva etaro quando la stagione mi permette di averli, se no sicuramente mai sono riuscito a avere questa media su tutti gli ettari perché l'annata che va bene per un vitigno non va bene per un'altra. Credo fermamente nelle varietà autoctone e se dico che si sono adattate, adattate no, sono nate in una zona perché io non parlo più di adattamento quanto di storia del territorio, cioè di identità antropologica di un territorio che è legata alla cultura, il mangiare, il bere e assolutamente il vino che si produceva. Cosa devo dire ancora? Si fermenta, faccio fermentare le uve con i lieviti autoctoni perché secondo me far fermentare un vino con un lievito selezionato è snaturare perché comunque quel vino prenderà inevitabilmente la strada del lievito selezionato che gli è stato inoculato. Questo vuol dire che stiamo arrivando a un punto di uniformazione del gusto, non possiamo più parlare di terroir se continuiamo a usare queste porcate, ma non per tanto che facciamo, ma proprio per una questione di territorio, di ciò che deve esprimere quel territorio. Talvolta qualcuno mi recrimina questa scelta estrema e io le rispondo subito, molto semplicemente, se lei, le dico sempre, prende sua moglie e la fa accoppiare con un bel fustone magari californiano, alto, biondo, con gli occhi azzurri, fa andare a letto sua moglie con questo, poi voglio vedere se ha il coraggio di dire che quello è suo figlio, è quello che sta succedendo nel vino. Stiamo ovviamente portando il vino agli estremi dell'industria, perché ovviamente l'industria vuole omologare i gusti, come sta omologando tutto. Secondo me al giorno d'oggi dire la verità è l'azione più, è l'atto più rivoluzionario che si possa fare, però forse è anche l'atto più bello perché a questo punto si riesce ancora a guardare il proprio figlio negli occhi e si riesce a guardare le proprie piante negli occhi, questo è. E poi il vino è nato su quel territorio, su quella specifica terra che nessun'altra terra avrà, non dico avrà certe caratteristiche più buone, ma è di quella terra, sta parlando di quel territorio e di quella cultura. Abbiamo una varietà di culture millenarie in tutta Italia che noi allegramente mandiamo a quel paese, è ora di finirla, è ora di essere anche orgogliosi di questo patrimonio che nessuna parte al mondo ha e riesce ad avere. Tutto qua, l'idea di portare in giro la nostra cultura, il nostro sapere, è il tutto messo con l'anima di un produttore dentro un bicchiere. E chissà perché quando questo bicchiere deve regalare un sogno, deve regalare un viaggio. E noi lo possiamo fare e lo dobbiamo fare. Sono nato per rispetto, per la terra che calpestiamo ogni giorno e per il sorriso del nostro figlio. Tutto qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.